Falsi griff di lusso, arrestate 7 persone, la Guardia di Finanza ha disarticolato un'organizzazione che vendeva articoli in pelle contraffatti in tutto il mondo. Le indagini sono partite dalla Versilia. Scuola ancora scoperte oltre 2000 cattedre, la denuncia dei sindacati ma anche il provveditore Buon Riposi si scaglia contro il sistema delle nomine. Inaugurato il sentiero della Capriola a Camporgiano dalla frazione di Poggio, si raggiunge la cima della collina attraverso boschi di conifere e panorami meravigliosi. Lemura e Linney Harper, la nuova americana, la cestista di Chicago, arriva a Lucca dalla squadra lettone del Riga con la quale ha disputato l'Eurolega. Ben trovati a questa nuova edizione del TGNO in apertura l'operazione della Guardia di Finanza di Lucca che ha disarticolato un'organizzazione che smerciava prodotti in pelle con false griff, prodotti di lusso. Sono state arrestate 7 persone. La Guardia di Finanza del gruppo di Viareggio ha condotto una complessa indagine che ha portato allo scoperto una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione e alla commercializzazione di prodotti contraffatti di altissimo livello. A finire agli arresti domiciliari sono state 7 persone residenti a Milano, Monza, Empoli e Firenze oltre ad un cittadino cinese e ad uno coreano. L'indagine ha coinvolto complessimamente 21 soggetti implicati a vario titolo nell'attività illecita. In pratica l'associazione criminale realizzava all'interno di manifatture della zona di Empoli e Santa Croce sull'Arno copie esatte dei marchi più prestigiosi, principalmente Gucci, Yves Saint Laurent, Dior e Ferragamo. I prodotti contraffatti venivano un po' messi sul mercato sia estero che nazionale. Per quanto riguarda il mercato estero i negozi di riferimento erano ignari della provenienza illecita della merce, mentre nel caso del mercato nazionale questo veniva svolto principalmente attraverso il passaparola in ambienti particolarmente facoltosi come quelli della Versilia nel periodo estivo. Sì, si può dire che tutto è partito dalla Versilia perché proprio qualche anno fa il primo incontro, le prime accorde di questa associazione sono avvenute in Versilia. Ancora adesso, quest'estate, abbiamo testimoniato degli incontri tra gli associati qui in Versilia e inoltre molti, alcuni acquirenti stavano qui durante la stagione estiva e abbiamo anche qui raccolto queste vendite dirette a clienti facoltosi della Versilia. Le persone che andavano a vendere al dettaglio questa merce sapevano di vendere un prodotto di alta qualità ma contraffatto. Il commercio illecito dei capi in pelle contraffatti ha fruttato all'organizzazione criminale circa 5 milioni di euro soltanto in un anno e mezzo, una cifra rilevantissima. Ancora Luigi Casentini. Le indagini di questa operazione sono riuscite a quantificare, caso più unico che raro, le cifre dell'illecito profitto che si aggiravano per il solo periodo dell'attività investigativa a oltre 5 milioni di euro. All'interno dell'organizzazione era prevista una figura che si occupava di creare società all'estero, in particolare a Londra, che servivano a far arrivare pagamenti estero su estero e a far poi transitare in Italia il denaro su conti correnti che venivano rapidamente svuotati mediante prelevamenti agli sportelli Bancomat. Proprio questo è stato l'elemento che ha portato a quantificare il giro di denaro dell'attività illecita. Capitali in parte recuperati tramite il sequestro di 8 immobili, un terreno, 33 conti correnti e 8 tra auto e moto. Nel corso dell'operazione, durata circa un anno e mezzo, sono stati sequestrati più di 50 mila prodotti contraffatti, 500 metri di stoffa delle più note griff d'alta moda, oltre ad una piastra per la stampa del marchio Gucci sul Pellame. Un'attività, quella della contraffazione, che ha ricadute pesanti anche sul settore occupazionale, oltre che su quello erario. Sì, questa come tutta la contraffazione provoca dei danni, dei danni all'erario dello Stato che fa perdere ingenti somme di denaro, stiamo parlando tra i 7 e i 10 miliardi di euro l'anno. È un danno per le imprese che operano regolarmente sul nostro territorio, perché subiscono una concorrenza sleale. È un danno per l'occupazione, si stima una perdita di posti di lavoro dovuti alla contraffazione tra gli 80 mila e i 100 mila posti di lavoro e inoltre c'è il pericolo sulla salute pubblica, perché questa merce non è testata da nessun ente. Complimenti alla Guardia di Finanza di Lucca al Viareggio per questa operazione. Passiamo al tempo, perché la protezione civile della regione ha emesso un avviso di criticità arancione su quasi tutte le province della Toscana. In particolare sulla provincia di Lucca, l'allerta arancione è valida fino alle ore 3 di questa notte per forti temporali e il rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. Adesso parliamo di scuola perché la situazione anche nella nostra provincia è difficile, per non dire drammatica. Sono scoperte oltre 2 mila cattedre. Ancora la situazione dovrebbe essere risolta nei primi giorni del prossimo mese, ma i sindacati lanciano l'allarme e anche il provveditore Buon Riposi si lamenta della situazione. Sentiamo. A due settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico, nella nostra provincia la copertura di organico è pari al 22% dei posti disponibili. Ad oggi sono scoperte oltre mille cattedre di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. Mancano 1200 insegnanti di materie obbligatorie e ordinarie. Sono vuoti 300 posti per l'organico Covid, personale da assumere ma licenziabile in caso di nuovo lockdown e 700 per gli ATA, il personale non docente. Nei prossimi giorni saranno conferite 3 mila nomine, naturalmente tutto personale precario. La situazione è drammatica, questo l'allarme lanciato dal sindacato della scuola che chiede venga superato l'organico di fatto con quello di diritto. Il caos cattedre dovrebbe comunque essere risolto entro il 3-4 ottobre. Questa la rassicurazione è arrivata direttamente dal provveditore agli studi Donatella Buonriposi che ha affidato ad un lungo post su Facebook tutta la sua rabbia contro un sistema che definisce farraginoso e macchinoso. Un mostro si legge. La copertura delle cattedre non risolverà come detto un problema che da troppo tempo si ripresenta e si aggrava puntualmente ogni anno. L'esercito dei precari nella nostra provincia riguarda oltre il 40% del personale in servizio. Dunque ancora una volta per volontà politica non si sono voluti stabilizzare l'esercito dei precari che sulla provincia di Lucca rappresenta più del 40% del personale in servizio. Fondamentalmente io li definisco precari stabili. Sarebbe bastato in metterli in ruolo valutando, come era già una nostra richiesta, il servizio, almeno tre anni di servizio per poi fare una selezione in uscita. I contagiati da coronavirus sono 156 nuovi casi positivi in Toscana, 21 dei quali in provincia di Lucca, 15 in Versilia e 6 nella Lucchesia. Tra questi il risultato positivo al Covid, comunica alla ASL, un bambino di tre anni alla scuola d'infanzia di Castelnuovo Garfagnana. Sono stati quindi messi in quarantena nove bambini, tre insegnanti e due operatori scolastici. Da aggiungere anche che è morto il 61enne di Lammari, che fu il primo contagiato di coronavirus nella piana di Lucca. A dare l'annuncio è stato il sindaco di Capanduri, Luca Menesini, su Facebook. L'uomo risultò positivo il primo marzo scorso. Da marzo ad oggi, ha scritto il sindaco, ha lottato per superare prima il Covid-19 e poi le conseguenze che il virus aveva lasciato sul suo fisico. Alla famiglia, scrive ancora il sindaco, va il mio abbraccio e quello dell'intera comunità di Capanduri, alla quale si aggiunge anche l'intero staff di Noi TV. Cambiamo argomento, un argomento molto più leggero, la giostra della ghibellina che è andata in scena domenica scorsa, nonostante il maltempo. Nonostante un pessimo avvio in quanto a condizioni meteorologiche, la seconda giostra ghibellina ha preso il via domenica scorsa con tiri di prova dei balestrieri lucchesi di Contrade San Paolino e gli ospiti della compagnia balestrieri di Amelia. Viste le avverse condizioni meteo previste per il pomeriggio, è stato deciso di anticipare la prima gara a squadre immediatamente al termine dei tiri di prova. Poi è stata invece la volta del corniolo che è stato colpito dalle verrette dei 40 balestrieri partecipanti. Dopo il consueto pranzo conviviale al campo tiro è avvenuta la premiazione. Per la gara a squadre il premio di prima classificata è andata la squadra di Lucca con 340 punti, seguita da Amelia con 336 e da Lucca B con 300 punti. Per il corniolo invece i primi tre classificati sono tutti di Amelia, Alberto Arrow Alagna, Eleonora Grilli e Cristina Cruciani. La giornata si è conclusa con un ideale a rivederci alla prossima gara che per i palestrieri lucchesi sarà il palio delle contrade del 4 ottobre con cui si chiuderà ufficialmente questa stagione poco intensa e così strana a causa dell'emergenza Covid-19. Ci spostiamo a Camporgiano in Garfagnana dove è stato inaugurato il sentiero della Capriola. Con l'inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi è stato festeggiato il recupero del sentiero che porta sulla cima del colle della Capriola. La Capriola è la collina rocciosa alle spalle della frazione di Poggio nel comune di Camporgiano dove nel passato probabilmente hanno avuto origine i primi insediamenti abitativi e anche difensivi del paese e per questo il colle era un luogo strategico. Per gli abitanti del Poggio comunque la Capriola è un luogo simbolo e punto di riferimento anche per le piccole o grandi cose che caratterizzano questa comunità tant'è che così si chiama anche la locale squadra di calcio amatori. È stato possibile recuperare il sentiero grazie al piano di sviluppo rurale e regionale finanziato dalla comunità europea con fondi che sono stati richiesti ed ottenuti dal comune di Camporgiano. Il tracciato appena inaugurato rappresenta ora un'ulteriore offerta turistica e di valorizzazione del territorio. Siamo veramente soddisfatti di questo intervento perché è una riqualificazione complessiva di un sito di grande interesse sia geomorfologico sia naturalistico sia storico. Insieme all'altro intervento finanziato della via Matildica dal ponte medievale fino alla chiesa di San Biagio realizzeremo un circuito molto molto importante non solo per gli abitanti della nostra terra ma anche per il turismo. Il sentiero inizia dopo l'attraversamento della bella frazione del Poggio e si snoda tra varie essenze botaniche, boschi di conifere e panorami meravigliosi. In meno di mezz'ora si raggiunge la cima della collina dove un tempo sorgeva anche la rocca della Capriola, un castello eretto nel Medioevo di cui purtroppo oggi restano solo delle tracce. La cima si guadagna comunque attraverso un percorso molto curato, abbellito ed incorniciato oltre che messo in sicurezza da 500 metri di palizzate e arricchito da varie piazzole per ristoro. In una di queste più ampia è possibile accendere anche il fuoco. I lavori, che hanno visto un investimento di 124 mila euro, sono stati eseguiti dalla cooperativa La Rocca sul progetto dell'architetto Domenico Davini e hanno interessato un'area di oltre 5 mila metri quadrati. E adesso il basket con il nuovo acquisto delle Mura Lucca, Gesam Gas e Luce. È la guardia Linney Harper, 25 anni, la nuova americana del Gesam Gas e Luce, le Mura Lucca. È stata la stessa società lucchese ad annunciare il suo ingaggio. La Harper nell'ultima stagione ha giocato in Europa nella squadra lettone del Riga, club con il quale ha preso parte anche all'Eurolega. Con la nazionale americana ha preso parte ai giochi panamericani del 2015 a Toronto, conquistando la medaglia d'argento. Un innesto molto valido anche tatticamente per la società lucchese, dato che coach Francesco Iurlaro potrà impiegarla in più ruoli a seconda di quale scenario si stia sviluppando nella partita. Alta 1,73, nata a Chicago, Linney Harper può essere schierata sia come guardia, suo ruolo naturale, che all'occorrenza come playmaker. Forte fisicamente, Harper sa come far male in fase offensiva, grazie a una buona capacità realizzativa abbinata a una altrettanto buona visione di gioco, che le permette di mandare spesso e volentieri a canestro le sue compagne di squadra. L'arrivo della Harper coincide con l'inizio della stagione ufficiale della Gesam Lemura, che venerdì esordisce in Supercoppa. Nei quarti di finale, Lucca affronta il San Martino di Lupari. È tutto per la prima parte del TG, ora la pubblicità, poi torniamo con Via Reggio e la Versilia.